Una delegazione composta da rappresentanti della FAO e da alti funzionari della Giordania è in Italia dal 18 al 24 ottobre per uno studi tour. L'iniziativa rientra in un progetto con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e best practice tra la Giordania e altre nazioni in cui investe la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Il tour prevede tappe in varie regioni italiane dal Lazio alla Puglia passando per Abruzzo, Marche e Basilicata e mira a far conoscere le eccellenze italiane nel settore dell'agricoltura e del turismo rurale. In Puglia la delegazione si soffermerà tra gli altri comuni a Foggia, ad Altamura e tra le attività previste una visita a Cascina Savino, nota per la sua capacità di innovare sistemi agricoli combinandoli con l'accoglienza turistica e alle masserie Zuccaro, un'antica masseria pugliese, è anche prevista una esperienza pratica nella realizzazione del tipico panzerotto pugliese. Ad Altamura è in programma la visita guidata in un panificio e un caseificio simboli dell'artigianalità e della tradizione locale. Il tour proseguirà anche in Basilicata con un incontro a Matera presso Casa Natural focalizzato su come estendere la permanenza dei turisti in agriturismo e come attrarre visitatori urbani. Sarà inoltre esplorato il ruolo delle cooperative nella valorizzazione dei prodotti locali. Ulteriore appuntamento in Basilicata è previsto con Alsea in regione Basilicata per discutere la multifunzionalità nell'agricoltura. Il comune di Castel Saraceno invece è stato selezionato come modello di eccellenza nel settore, offrirà alla delegazione un'importante opportunità di confronto. Infine a Grottole dove saranno esplorate le opportunità offerte dal turismo comunitario con particolare attenzione ai percorsi enogastronomici.